Vergine Maria, madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto. Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati. Perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita, tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine madre, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso suo figlio Gesù. Mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie. La liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo, accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sì il mio rifugio. Maria, che sciogli i nodi, prega per me.